Buon saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor Rieccoci qua con Marcus e gli altri Gears Stiamo per effettuare la contro-offensiva contro le locuste nelle loro gallerie Prima però dobbiamo passare questa città semi-distrutta Vediamo di qua cosa c'è Dai Marcus però I ticker, perfetto Le locuste li usano come mine anti-uomo Dovete sgombrare la strada per far passare Betty I ticker fanno schifo e abetti non piacciono Oh merda Ok Ok Delta il KR51 segnala Nemesis sul vostro spazio aereo Confermate Niente in vista controllo ma teniamo gli occhi aperti Mi ricordo quando presero lenta Vediamo di qua cosa c'è È incredibile che un posto così vicino agli assintosi è rimasto sotto il controllo delle locuste così a lungo Dovevamo lanciare quest'attacco anni fa Sono certo che il COG aveva le sue ragioni Anche se non erano sicuramente buone Oh merda Cazzo sono grossi ste merde E ho anche sbagliato a ricaricare Perfetto Molto bene Non ci sono più ticker Ora Betty è contenta Meno male che Betty è contenta DEMASI Oh cazzo Porca puttana E dove sa che mi riparo? Là dentro Porca merda No, Benjamin E' sbagliato Via dentro di là, ragazzi Merda, è pieno di locusti Grande Non credo che abbiate bisogno di me, Delta Puri sono munizioni Dio, ho passato Ok Understand Ci vediamo dall'altro lato Ci puoi scommettere, Bevi Controllo quanto dista la zona di trivelazione Poco E' giusto oltre quel tunnel Oh merda, il tunnel Questo non lo ricordo, purtroppo Per scavare nel punto esatto in cui si trova il monumento al centro della città Dovete tornare nei camion per allinearle bene Ricevuto Delta chiudo Questo sarà un bel livello Livello di merda, ragazzi Gli aperti, Delta E chiedete mai perché non ci danno delle torce elettriche? Il ragazzo ha ragione Potenza o luce? Sarebbe a dire? Che preferisco sempre un'arma in più a una torcia elettrica Cioè, vediamo di avanzare qua Porca Culo C'è un buco e ci sa dove arrivano Oh, vedo la luce, vedo la luce Che dei nemici Ah no, il time Madonna Non mi uscire da sto buco di merda Eh, ma no Ma non ci credo Fatemi scappare, per favore A colpire qua di sopra sono più Gracili Minchia Munizioni 17 munizioni state sprecando Riparo Betti non esce Mortaio Bene Molto bene Facciamo dai Di hotel Come noi dobbiamo stare lì a guardare Il mortaio quando spara Oh cazzo però Non è già qua questi Tira un colpo di mortaio attraverso il tetto Mi serve un'entrata Ci sono Aspetta Aspetta Ok Ci ha aperto l'entrata Muoviamoci Uncchiaa Che il resto del viaggio ce lo facciamo a bordo C'è un brumac che esce dal tunnel Ecco pure il brumac che ci mancavano Vuole molestare la mia pelle Io non mi ricordo un cavolo delle distanze qua adesso Pronti Minerare Poco Putta la merda Che culo Due colpi sono bastati Bentornati ragazzi Meno male che sono bastati due colpi ragazzi Calma Questo sì che è un cimitero Gli vermi hanno fatto un vero casino qui Non hanno rispetto neanche per i morti Qui erano sepolti molti ottimi soldati delle guerre Pendulum Adesso ci sarebbero molto utili Controllo qui Delta Siamo in zona trivellazione Ricevuto Delta A che punto siete con lo scavo? Siamo per mettere in posizione le trivelle Purchè i Delta ci coprano il culo Ehm Ricevuto Controllo chiudo Forse l'ho fatto un po' troppo Ehm Ma va Ma va L'avrete venuto qualcuno Merda merda dobbiamo andare subito io è bello lontano vediamo se così basta e no e questo si boom se mi succede qualcosa promettimi che cercherai Maria d'accordo Tom non c'è problema e questo se non ricordo male si chiama Scorge è tipo il nuovo generale Ram bello come il sole bravo tizio bravo tizio spero ci sia almeno un airbag dentro no niente cavolo si starà vomitando l'anima adesso dannazione allora è così che è fatto il vuoto dai qui Marcus mi ricevi dai dizzi dizzi ci sei cazzo controllo qui delta mi ricevete delta qui alfa 1 abbiamo perso il contatto con la superficie possiamo usare solo le radio a onde corte ma abbiamo traccia di un sider ricevuto alfa 1 buona caccia sergente mi riceve Carmine dove diavolo sei non lo so signore credo che la mia trivella sia fuori percorso vai e con te no è saltato prima del lancio però vedo un'altra trivella più avanti va bene dirigiti la ora arrivo ma non attaccare il nemico limitati a difendere la tua posizione ricevuto mi auguri buona fortuna vieni duro pivello arriviamo tra poco arriviamo Carmine ok ragazzi per questo video è tutto nel prossimo esploreremo queste caverne delle locuste un saluto a tutti e alla prossima ragazzi